Una ricetta in meno di un minuto Quella cuciniamo insieme ad Andrea, sarde a beccafico Amorili in cucina Pronti via, leviamo subito la risca centrale, spine superflue e specialmente la dorsale Sciacquate il pesce in acqua e sale, fa pura rima Le rische non buttate, le mettete in essiccatore, faremo altre ricette Tostiamo il pane, dopodiché la cipolla, un paio di sardine che avete sminchiato Le potete mettere, vino bianco Inseriamo il pan grattato E usate questa uvetta qua, si chiama di Corinto Perché con l'auta si ce fa la paesicceria dei pinoli, il succo di un arancio E poi fuori dal fuoco possiamo grattugiare un limone, la scorsa soltanto, mi raccomando Facciamo in questo modo, come vi sto facendo vedere io Mettiamo in pirofila, intervallate, tra una sarda e l'altra Una foglia di alloro, 180 gradi in forno, un quarto d'ora, massimo 20 minuti Ed ecco qua il piatto, beddamati Grazie Grazie